Amici di Frontiere Proibite, benvenuti a questo nostro nuovo incontro. Benvenuti da Roberto Lapaglia, benvenuti dal giornale dei misteri. Oggetti misteriosi, oggetti impossibili, oggetti di uso comune che bene o male tutti noi possediamo, ma che possono rivelarsi stranamente inquietanti. Restate con me perché sto per accompagnarvi in un viaggio alla scoperta di cinque oggetti considerati maledetti. A tra poco. Chi ha seguito il Nocturnal della settimana scorsa, quello in compagnia dell'amico Michele Dini Castro, e chi non l'ha fatto lo invito a farlo, saprà che abbiamo parlato anche di energia della vita. Un'energia che non riveste soltanto il corpo umano, che non fa parte soltanto dell'essere umano, ma che in qualche modo investe anche tutto ciò che ci circonda, anche gli oggetti. Ma questa energia può rimanere a distanza di decenni, può in qualche modo continuare a rilasciare determinate sensazioni, ricordi, inquietanti storie, echi di fatti misteriosi. Proviamo a scoprirlo insieme con il primo degli oggetti maledetti che sto per presentarvi. Gli specchi, oggetti comunissimi che noi tutti possediamo, conservano al loro interno, nei loro riflessi, echi di antiche storie, storie spesso angoscianti. E il nostro primo oggetto è infatti proprio uno specchio, quello che si trova conservato a Myrtles Plantation in Louisiana. La Myrtles Plantation è una ex piantagione e dimora storica che si trova a St. Francisville in Louisiana. Costruita nel 1796 dal generale David Bradford, viene ricordata oggi come una delle case più infestate d'America, forse anche perché venne edificata su un cimitero indiano. Nel 1992 la proprietaria fotografò quella che sembrava essere una schiava in piedi tra due edifici della piantagione. Foto che fino ad oggi ha superato ogni test, dimostrandosi assolutamente autentica. La casa ha registrato vari fenomeni definiti anomali, non ultimo quella di un'altra foto, quella che state osservando in questo momento, anche questa ritenuta autentica dagli esperti. Ma l'elemento più inquietante della casa, come già detto, è proprio uno specchio. La gente del posto, infatti, afferma che lo specchio sia maledetto e che condenga gli spiriti di Sara Woodruff e dei suoi due figli, entrambi avvelenati nella stessa casa dalla schiava Chloe. Uno specchio, un comunissimo oggetto, un inquietante mistero. Così come inquietante è la storia che si nasconde dietro l'abito da sposa di Anna Becker. Questa è Villa Becker, ad Altuna, in America, luogo che conserva ancora l'abito da sposa di Anna Becker, una ragazza che si era perdutamente innamorata di un operaio siderurgico. La famiglia non era d'accordo con questo matrimonio e proprio per questo motivo, un giorno, Anna fuggì da casa per andare dal suo amante. Ma il padre la rintracciò, la riportò con la forza a casa e la chiuse in camera da letto. Anna rifiutò tutti gli altri pretendenti e trascorse da sola il resto della sua vita. Dopo la sua morte, molti membri della famiglia riferirono di aver visto l'abito da sposa di Anna apparire in diversi punti della casa. Altri ancora raccontarono di aver visto la stessa Anna girarsi per la casa con addosso lo stesso abito che non riuscì ad indossare in vita. Strane storie, eventi inquietanti. Sembra che il mistero si nasconde ovunque, anche negli oggetti più impensabili, addirittura anche nei giocattoli. Corre l'anno 1970, quando una donna del Connecticut decide di fare un regalo a sua figlia. Si reca in un negozio di antiquariato e acquista una bambola. Molto presto si pentirà amaramente dell'acquisto effettuato. Pochi giorni dopo iniziarono a manifestarsi le prime stranezze. La bambola sembrava cambiare posizione. Quindi venne ritrovata a terra, ma in una stanza diversa. Venne rimessa a posto, venne chiusa la porta, ma al rientro la bambola non c'era. Era nuovamente in un'altra stanza. Del caso si occuparono gli investigatori dell'occulto Ed e Lorraine Warren, i quali affermarono che la bambola era posseduta dallo spirito di una bambina di sette anni brutalmente assassinata, Annabelle Higgins. La bambola, dopo altre innumerevoli e inquietanti manifestazioni, si trova oggi conservata presso il Museo dell'Occulto del Connecticut. Ma non soltanto gli oggetti più comuni possono nascondere antiche maledizioni. Anche quelli preziosi, non sempre alla portata di tutti, sembrano avere questo destino. Il diamante Hop, una pietra di ben 115 carati all'origine, dalle meravigliose tonalità blu e dal valore di ben 250 milioni di dollari, ne è il classico esempio. Secondo la tradizione, fu un mercante francese, Jean-Baptiste Tavenier, a strapparlo dagli occhi di un idolo hindu nel 1688. Da allora chi lo possiede attira su di sé una tremenda e pericolosa sfortuna. Rientrato in Francia, Tavenier vendette il diamante a re Luigi XIV, che lo fece tagliare ed incastonare in un gioiello personale. Da allora la maledizione del diamante Hop iniziò a colpire i suoi vari possessori. Tavenier, Luigi XIV e Luigi XV vennero colpiti da dolorose malattie. Maria Antonietta e il marito Luigi XVI vennero decapitati durante la rivoluzione francese. Il diamante, in seguito trafugato, riapparve nel 1830 nelle mani di Lord Francis Hop, il quale lo fece nuovamente tagliare, questa volta in cinque parti. Inutile dire che i cinque proprietari morirono tutti di morte violenta. Abbiamo iniziato con un oggetto del tutto innocuo e chiudiamo allo stesso modo, con un oggetto tra i più conosciuti e usati, la sedia. Ci troviamo a Tiersk, nella contea del North Yorkshire, in Inghilterra. Proprio qui, sulla Carriton Road, si trova un piccolo museo all'interno del quale è ancora possibile osservare un curioso reperto. Si tratta di una sedia, una sedia molto particolare, la sedia di Thomas Busby, falsario e alcolizzato che un giorno, colpito da un raptus di follia, uccise il patrigno. Subito arrestato, venne processato e condannato all'impiccagione. E veniamo adesso alla parte più interessante di questa storia. L'uomo, come ultimo desiderio, espresse quello di poter consumare la sua ultima birra nel suo pub preferito. Lo portarono nel pub, l'uomo si mise a sedere sulla sedia che usava normalmente, beve la sua birra e poi improvvisamente si alzò pronunciando una terribile maledizione. Possa la morte cogliere improvvisa chiunque oserà sedersi sulla mia sedia. L'ultimo proprietario fu il gioiegliere americano Harry Winston, il quale nel 1958 lo donò allo Smithsonian Institute. Lo Smithsonian Institute a sua volta lo passò allo Smithsonian Museum di Washington, dove ancora oggi si trova. Winston fu l'unico che sfuggì alla maledizione del diamante Hope. Busby venne impiccato davanti al pub e subito si sparse la voce che il suo spirito possedeva la sedia. Che sia vero o meno, ad oggi ben 63 delle persone che hanno provato a sedersi su quella sedia sono morti di morte improvvisa. La sedia in seguito venne donata al museo di Tiersk, laddove oggi si trova ancora, ma ben conservata. La sedia infatti è stata appesa ad un muro a circa un metro e mezzo di altezza da terra. 5 oggetti inquietanti, 5 storie maledette. Sarà vero? Sarà superstizione? Credenze popolari? Noi per adesso ci fermiamo qui. Se vi è piaciuto questo video, se vi piace il canale vi invito ad iscrivervi, a lasciare i vostri commenti, i vostri like. L'appuntamento è come al solito per mercoledì prossimo sempre alle 14.30 per un nuovo mistero da esplorare. Grazie per avermi fatto compagnia. Alla prossima. Grazie a tutti.